In questo video vedremo l'uso delle frese V-Bit su un percorso incisione. Le frese V-Bit sono usate per lo più nel settore falegnameria, per creare degli scassi. In commercio se ne trovano di misure forme diverse, ma a noi interessano quelle a forma di V. La caratteristica principale è la punta appuntita, e l'angolo di taglio. Dall'immagine avrete già capito che la parte interessante è l'angolo. Vediamo degli esempi usando le V-Bit in un percorso di incisione. Impostiamo un vettore da un file esterno. Centriamo il vettore nel piano di lavoro. Clicchiamo su questa icona per aprire la scheda Lavorazioni. Impostiamo i parametri del materiale. Clicchiamo su Creare percorso V-Card e incisione. Impostiamo i parametri della profondità iniziale e quella finale. Clicchiamo per aprire il database utensili e selezionare la fresa. Ho creato nel database una V-Bit con angolo 45 gradi. Potete creare un nuovo utensile copiando questi parametri. Lasciamo gli altri parametri come sono, e clicchiamo su Calcolare. Facciamo una simulazione del percorso creato. Grazie. 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 Direi che il percorso creato è buono. Quindi possiamo salvarlo e mandare in macchina il lavoro. Grazie.